Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Profste, oggi è venerdì 8 marzo 2012, sono le 22.12 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra video analisi settimanale, come sempre dopo la chiusura del venerdì, che chiude appunto la settimana finanziaria. La settimana finanziaria che è stata, qui vediamo i grafici giornalieri, sicuramente molto interessante e che ha concluso la stessa con un tono di positività che vedete essere molto chiaro nelle ultime sedute, questo è l'Eurostox, questo è il DAX, quindi sostanzialmente anche il nostro firm a grado della sottoperformance ha chiuso la settimana all'insegna della positività. Stessa cosa sul mercato americano, queste le ultime sedute sull'S&P 500 e sul Nasdaq, anche se poi proprio la seduta appena conclusasi di venerdì 8 ha in qualche maniera di nuovo destato qualche dubbio, ma di questo parleremo tra un attimo. attenendoci strettamente a quelli che sono i fatti, ripeto e di nuovo la settimana si è chiusa positivamente, positività confermata anche dal fatto che, lo vediamo qui, l'Eurostox proprio nella giornata conclusiva della settimana di venerdì 8 marzo ha rotto, ha rialzo l'area di congestione che ben avevamo indicato anche settimana scorsa e aggiornato rispetto alle ultime movimentazioni avvenute appunto nei due sensi, ecco dicevo rispetto a quell'area di congestione vediamo che l'indice Eurostox, il future Eurostox si è proprio da poco nella giornata di venerdì, nella giornata di oggi allineato al DAX che aveva nei giorni precedenti già rotto al rialzo la congestione stessa, quindi c'è una conferma e attenendoci ai fatti di nuovo, questo è quello che è avvenuto, come sempre discorso a parte per il FIB, la situazione politica in Italia continua a predominare la scena e quindi di nuovo conviene tenerlo un pochino in secondo piano, tra l'altro proprio oggi interessante notare che il FIB è riuscito con fatica e ha seguito in intraday tramite Facebook, sa bene come si sia parlato di questa cosa, appunto chiuso il gap che da febbraio, l'ampio gap ribassista post elettorale che era rimasto aperto appunto dal mese di febbraio, ora vediamo un pochino più in dettaglio quello che è accaduto, allora la prima cosa, il primo elemento e parlo a chi ha vissuto queste giornate come me in intraday, è che comunque in nessuna di queste giornate si è vista una forte spinta ribassista, rialzista perdonatemi, una forte spinta rialzista che è poi confermata anche dal fatto, io non amo le candele giapponesi ma giusto per comprendere, o meglio non uso le candele giapponesi almeno al punto di vista tecnico, ecco dicevo però almeno per comprendere si nota come queste shadow che sono appunto in alto a ciascuna delle barre giornaliere mostrano come comunque non ci sia mai stata realmente una giornata completamente positiva e sappiamo bene come la vera positività è di solito confermata da un'ampia barra direzionale con una chiusura in prossimità dei massimi, quindi questo non è mai avvenuto anche nella giornata appena conclusa sia appunto di venerdì e un po' in tutte le giornate che hanno caratterizzato la settimana, questo è il primo elemento importante. Il secondo è purtroppo, dico perché sarebbe molto bello avere qualche dubbio in meno sulla positività che i mercati hanno mostrato, il gap che e lo ripeto purtroppo nella giornata di mercoledì 6 per pochissimi tic è rimasto aperto sia sull'Eurostox sia sul DAX, gap che lo vedete è pienamente all'interno della congestione, vediamo perché, anche di questo ne abbiamo parlato su Facebook, quindi chiarisco per tutti, il minimo del giorno 6 è a 2.673, mentre la chiusura del giorno precedente, cioè del 5 marzo è a 2.671, quindi per quanto riguarda l'Eurostox questo gap in congestione è purtroppo rimasto aperto per soli due tic, andiamo a vedere sul DAX analogamente, eccolo qui, allora abbiamo il giorno 6, minimo a 7.851, livello chiusura della giornata precedente del 5 marzo 7.841, quindi qui per 10 punti un pochino più ampio, ma anche lui lo vediamo pienamente ancora in congestione, è purtroppo rimasto aperto, dico purtroppo perché insieme a quell'incertezza che abbiamo cercato di sintetizzare tramite le shadow di queste ultime candele giornaliere, ma ancora meglio tramite quella mancanza di forte spinta che anche in intraday abbiamo osservato e quei ritracciamenti che hanno portato poi le diverse giornate comunque positive a chiudere non sui massimi, come invece accade nelle giornate direzionali fortemente momento, ecco dicevo questa incertezza osservata in intraday, unita a quel gap aperto in congestione ci fa purtroppo ancora dubitare un pochino di questo rialzo, quindi ancora è molta cautela. Il FIB che dicevo è un pochino indietro, lo capiamo bene perché è lo stesso livello che corrisponde alla parte alta della congestione, che però sul FIB era non laterale come avvenuto su DAX e STOX, ma con una tendenza ribassista accentuata dalla sottoperformance appunto del FIB, evidenziata dalla sottoperformance del FIB delle ultime settimane post elettorale, ecco dicevo DAX e STOX questa settimana hanno rotto questo massimo che come vedete appunto sul FIB è ancora un pochino lontano, quindi fermo arrestando la peculiarità della situazione italiana per il problema politico, è ovvio che un riallinamento del FIB che dovrà severa positività e superare a sua volta questo massimo, a conferma della rottura rialzista di DAX e STOX che lo stesso massimo hanno, lo ripeto ancora perché è importante, è rotto questa settimana, ecco dicevo, è proprio il superamento di questo livello, quello che dobbiamo in qualche modo andare a verificare nelle prossime sedute. Vi peto e di nuovo attenzione a quel piccolo gap rialzista, microscopico gap rialzista, come riferimento otteniamo il massimo di questa barra, cioè il massimo del 25 febbraio, cioè a partire dalla settimana ventura nelle prossime sedute dove se esserci un ritracciamento sarà per confermare il quadro rialzista, ovviamente è importante che non venga penetrato questo massimo e ovviamente conseguentemente anche sul DAX questo massimo, cioè lo stesso massimo del giorno 25 febbraio, quindi un eventuale ritracciamento sarebbe anche in qualche maniera stata notare, però teniamo ben presente questo massimo perché non va penetrato in maniera confermata da DAX e STOX per mantenere e confermare la positività vista fino ad oggi, vista in questa settimana che appunto si è appena conclusa. Una penetrazione di questo massimo ovviamente riporterebbe DAX e STOX all'interno della stessa congestione e a quel punto dovremmo eventualmente andare a verificare se e come quel piccolo gap microscopico dovesse chiudersi, quindi teniamo anche presente un possibile rientro in congestione con chiusura del gap per poi ripartire verso l'alto e rompere per la seconda volta e sappiamo bene da metodo profsei quanto questo sia sicuramente altrettanto se non più significativo della prima rottura confermata appena osservata, dicevo rompere per la seconda volta la congestione al rialzo con una conferma che a quel punto sarebbe certamente più forte e magari aggiungo anche col FIB che a quel punto avrebbe raggiunto e superato quel massimo che è ancora un pochino lontano per l'indice italiano. Altro elemento importante, è vero che alla positività degli azionari lo vediamo è corrisposta sostanzialmente una discesa del Bund, ma in particolare nella giornata di venerdì appunto 8 marzo appena conclusa si abbiamo visto la mattina indice azionari, parlo degli intraday positivi e un Bund che saliva anche lui, poi c'è stato un riallineamento del Bund che invece ha iniziato a scendere, questo ha portato gli azionari a proseguire e a confermare la positività della giornata, però sul finire lo vediamo e se volete andiamo a osservarlo un attimo anche in intraday, c'è stato un pochino di ritracciamento del Bund avvenuto appunto nel pomeriggio, quindi anche qui se di vera positività si tratta sarà importante vedere il Bund anche lui proseguire al ribasso e non avere quei ritracciamenti verso l'alto che vorrebbero almeno in linea teorica, perché poi come sempre sappiamo che non è detto, gli azionari sulle salite del Bund scendere, quindi altro elemento di cautela sicuramente importante, altro elemento di cautela sicuramente importante, un Nasdaq che lo vediamo ha concluso una giornata all'insegna comunque sì di una positività, ma con una positività nominale, ma una incertezza se volete sicuramente marcata e invece un S&P 500 che ha di nuovo fatto segnare massimi storici, come sta avvenendo ed è avvenuto per quasi tutta la settimana che si è conclusa, quindi ancora di nuovo una piccola divergenza sul mercato americano, sicuramente da tenere presente e che ci fa ancora usare tanta cautela nell'approcciare la situazione europea che rimane assolutamente e ancora purtroppo compromessa e da risolvere, quindi le tematiche sono sicuramente molte, interessanti, intricate, ma anche molto semplici da seguire, perché sostanzialmente il massimo del giorno 25 fa un po' per tutti gli indici da riferimento, anche per il nostro figlio, anche se lo stesso massimo è ancora un pochino lontano.